Domenico Dovidio centrocampista del comprensorio Vairano anche quest'anno malgrado l'emergenza sanitaria si è riuscito comunque a portare a casa un risultato straordinario con la vittoria del campionato d'eccellenza. Dopo tanti sacrifici e tanto sudore finalmente è arrivata questa serie D è stata una vittoria particolare perché non ancora ci siamo potuti vedere per festeggiare. Un altro salto di categoria il secondo di per te con il comprensorio Vairano per la cui maglia hai dato tanto e stai dando ancora tanto. Anche attraverso i social ci hai tenuto a ringraziare società, staff ed il gruppo. Due campionati di fila non è facile vincervi. Un ringraziamento speciale a Mr. Urban e al presidente Rega perché hanno sempre chieduto in me. Ad inizio stagione non è stato facile, il Treppini aveva inanellato una bella serie di successi ma voi siete stati caparbi nel non perdere mai terreno. Sì, il Treppini è stato un avversario molto duro ma noi non abbiamo mai mollato, siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo che era la serie D. Hai ripetuto l'impresa condividendola con vecchie conoscenze, compagni con i quali già avevi vinto. È stato ancora più bello? Sì, in effetti non è il primo anno che condivido la vittoria del campionato con Sabatino, Minopoli e Panico. Speriamo di rivederci a più presto e di festeggiare come tutti gli anni.